Il canto che facciamo adesso è una preghiera che diciamo tutti i giorni, che ho musicato un po' di tempo fa, però che io riflettendo, capito, è una preghiera veramente contro il male, una preghiera esorcista, che si chiama il padre nostro, l'interascizio del male, dalla luce di questo periodo di torrenzo, ci fa veramente piacere sapere che questa preghiera ha un problema infinito che ci deve essere andato. Il canto che sei e cieli si è sacrificato il tuo nome, prenda lì, per tutto che io sia fatta, tua comunità, ovecce, 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 tra noi i nostri debili. Com'accordo di teatro ai nostri vetori e nu si muore, in 데le, dazione maliterac 사 Mile perché gli ultimi d'al victory. Il secondo canto si chiama, questo è compito la salvezza, è molto a terra perché è l'Apocalisse, l'Apocalisse dice l'ultima, ultima trattata dell'Apocalisse, questa viene un signor Gesù, male notare, perché è stato precipitato l'abusatore dei nostri strateghi, il demonio è qualcuno che fa il male, che accusa i strateghi, come diceva il Papa Francesco, dice male, sono dei strateghi, e allora poi si vede la sconfitta, come diceva Lorenzo, di questo essere malvagio, di mele, però Cristo ha vinto, male notare. Grazie. 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 Grazie a tutti. è www.mistagogia.net quindi vi potete riascoltare e approfondire e rivedere adesso la parola ancora Lorenzo adesso andiamo a discussione